Eccomi, proprio a pochi istanti, perché sto leggendo sia sui giornali che ascoltando su molte radio tutta questa polemica che è stata imbastita sull'affare che il governo italiano ha incaricato a una società di revisione della McKinsey per sopravvisionare tutto il tutto il piano nazionale per il recovery. In questo momento parlo da semplicissimo cittadino italiano che però nella vita ha lavorato nel settore, quindi conosco forse magari un pochino di più di quelli che parlano da una parte e dall'altra su come stanno realmente le cose. Guardate, non è né un supporto al governo e né andare contro il governo, quello che dirò è semplicemente una considerazione squisitamente tecnica. Lascio a voi poi qualsiasi tipo di considerazione. Allora, veniamo al punto. Il governo italiano che si è sediato praticamente pochi giorni fa si è ritrovata alla cosiddetta patata bollente di riscrivere dalla A alla Z, il piano nazionale per il recovery fund, chiamiamolo così, perché il precedente governo ne aveva presentato uno il 12 di gennaio scorso che però era veramente insufficiente. Non l'abbiamo detto soltanto noi, scusate c'è la telefonata di mezzo, detto noi come allora opposizione ma l'ha detto la Commissione Europea, l'hanno detto gli uffici tecnici del Senato che faceva acqua da tutte le parti. E allora cosa è successo? È successo che questo governo si è ritrovato nelle condizioni di doverlo riscrivere con una fretta incredibile perché il 30 di aprile è il termine massimo di consegna alla Commissione Europea e da lì dipende tutta l'erogazione futura degli aiuti previsti dal recovery fund. Ebbene, cosa succede? Che il governo ha detto noi ce la mettiamo tutta, lavoriamo pure di notte per poter fare un piano credibile e badate bene per chi ha letto veramente tutto l'impianto del recovery fund e il regolamento del recovery fund vi posso veramente garantire che è un ginepraio di regole. Quindi il governo italiano, ripeto, ve lo dico non da parte in causa, da cittadino italiano non da aeroparlamentare della Lega, si è trovata in condizione di trovare un soggetto terzo qualificato come può essere una società di revisione per verificare se tutto il lavoro fatto dal MEF perché sempre dal MEF, quindi dal Ministero Economia e Finanza, dipende tutto l'impianto del recovery fund è conforme. Avete capito bene la parola? Se è conforme, cioè verificare da un terzo, certificare da un terzo che il lavoro fatto è conforme a questo ginepraio di regole. Sono stato chiaro? Guardate, io nella mia vita precedente ho avuto a che fare con le società di revisione e quindi mi affidavo alle società di revisione per verificare se il lavoro che avevo fatto era conforme. Dovevo portare in quotazione una borsa? Andavo alla società di revisione e dico senti dove ho sbagliato? Mi guardi perché preferisco adesso modificare che dopo mi venga detto di no. Non so se è stato chiaro. Un altro esempio proprio banale, se io sono un costruttore di macchine, vado alla motorizzazione e porto il certificato, la notazione, loro verificano se è conforme, bravo, ma non è che loro alla motorizzazione mi dicono a me costruttore come fare la macchina, non so se è stato chiaro. Quindi quelli che adesso dicono ci siamo affidati soggetti esterni, vuol dire chiedo scusa molto sommessamente, non ho mai lavorato mai un minuto, perché è normale che avvenga. Quindi un soggetto esterno preposto alla certificazione di conformità che dice guarda che è conforme a quanto chiede l'Unione Europea per l'erogazione di questi fondi oppure ti dice no guarda qui è sbagliato o no. Ma dal punto di vista concettuale non dice devi fa così o devi fa cosa, ti dice solo se è conforme o meno. Io penso di essere stato chiaro in una maniera disarmante, poi chiaramente ci saranno i commenti di quelli che neanche hanno sentito ma hanno letto solo il titolino, allora faranno commenti a sproposito. Chi ha avuto la bontà e il tempo di ascoltarmi credo che è pienamente d'accordo su quello che ho detto. Vi ringrazio come sempre.